Cari pornonauti, oggi andremo a scrutare la categoria zampilli femminei, fenomeno noto come squirting nella galassia della pornografia, o spruzzing, se mi consentite questo neologismo dal sapore italico-talassico per un genere che ci aiuta a discernere se cernere la nostra libido. Or dunque lo spruzzo individe la comunità scientifica, come per il covid una parte ne sostiene l'esistenza, con poche prove. Parafrasando Gian Battista Vico, noi dimostriamo lo zampillo femmineo perché lo facciamo. Un'altra parte nega l'esistenza o sminuisce gli effetti, paragonandolo ad un semplice pissing di stagione. Tuttavia posso garantirvi che nella distanza di un metro nell'uso della mascherina potranno salvarvi dalla prima ondata. Durante la seconda potete giusto prendere le misure. Ma uscendoci realmente dal soggettivo per entrare nell'oggettivo, il dibattito sullo zampillo femminio ha portato la comunità scientifica a individuare il motore annaffiatore nelle ghiandole di schiene, vicino al punto G, che è un po' come studiare la pentola d'oro ai piedi dell'arcobaleno. Solo un irlandese ubriaco potrebbe crederci. Questo ha portato molto scetticismo nel vulgo. Celebri le frasi negazioniste, non ce n'è di squirting o non conosco nessuna che squirta. A cui si contrappone la più pesante, una mia ex zampillava come la fontana di Trevi, non tanto come getto, ma era circondata da giapponesi con telecamere waterproof. Tuttavia squirting sì o squirting no è solo un modo che ha la turbobulva per incanalare il pensiero unico su una tematica che assume un pieno carattere politico. La parità dell'eoculazione a getto per ambo i sessi. Una battaglia per godere di un diritto quasi atrofizzato che va vinta al grido di «la vagina non si ferma» e sembrerà una pratica forzata, giacché bisognerà surriscaldare i motori liberali libertari, fare le giuste pressioni agli organi competenti, ma poi, per citare Gabriella Hoffman, le donne ce la fanno. Orbene aprite tutto, questo è il desiderio del pornonauta che guarda lo zampillo femminio con stupore e meraviglia, cercando di piegare la realtà al suo desiderio, giacché, per citare Davide Hume, la ragione è e deve solo essere schiava delle passioni. Dunque lo spruzzing è una categoria adatta ai rabdomanti fantasiosi, ai nostalgici di «ho fatto splash», a chi sognava di diventare un petroliere, a chi non ha paura di metterci la faccia, a chi ama il calcio saponato, a tutte quelle donne che sognavano di dire «è proprio degno di uno come te, venire con un coltello ad uno scontro a fuoco». Ecco, lo zampillo femmino rappresenta la quintessenza della felicità umana, che tale solo se condivisa, e ignorarlo equivale a cancellarlo, e tutti quegli spruzzi andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.